TINFO 6 permette di sostituire i faldoni cartacei con un sistema di fascicolazione elettronica. Impostare degli stati per i fascicoli migliora la gestione dei processi aziendali. Diventa quindi facile navigare i fascicoli organizzati secondo una struttura a livelli. Aprire un fascicolo significa avere immediato accesso al suo contenuto, specifiche di progetto, allegati, appunti dei colleghi. Per gli allegati è inoltre possibile attivare il versioning dei file e recuperare lo storico delle modifiche. Nei collegamenti c'è una visione completa delle comunicazioni legate a uno specifico evento aziendale ed è possibile impostare delle regole affinché i flussi informativi vengano automaticamente collegati. Visualizziamo ora la bacheca della posta. In questo modo è semplice non perdere informazioni importanti ai fini di una visione globale del progetto. È facile con TINFO 6 coordinare la produzione.